Siamo entrati in Parlamento promettendo che avrebbero rinunciato ai nostri stipendi stellari da casta. Noi vogliamo restituire 2.500.000 euro alle piccole e medie imprese italiane che sappiamo essere la spina dorsale dell'economia del nostro Paese. Esiste un fondo di garanzia in favore delle piccole e medie imprese. Noi vorremmo versare questi soldi in questo fondo, ma il Governo non ce lo permette. Non potevamo sopportare questa indifferenza e abbiamo deciso che non si poteva attendere oltre. Ed è per questo che da oggi siamo davanti al Ministero dell'Economia in presidio permanente. Manca solo l'attivazione di un conto corrente bancario, che sapete essere un'operazione semplicissima. Dateci una mano.